buongiorno ragazzi buongiorno non ce la posso fare io chi in ansia come me lo scrivesse sotto me stesso mi piace non lo so perché perché sono sono veramente in ansia sono sono in ansia quasi quanto una partita di di champions league una partita di europa league un derby sono ansioso perché perché questa è una partita che vuol dire tanto perché è una prova del 9 per noi anche se comunque di grandi squadre ne abbiamo affrontate e per il momento come scontro diretto abbiamo perso solo quello con l'atalanta sappiamo tutti come è andato con l'atalanta dove secondo me ci è stato un po troppo severo il 2 a 0 come risultato finale però questa partita ragazzi vuol dire tanto vuol dire andare ad affrontare attualmente la prima in classifica ora con tutti gli sfottò che sto facendo io su instagram andatemi a seguire su instagram perché ci stiamo ci stiamo il mio cane sta impazzendo ci stiamo infatti non l'ha abbagliato fino adesso ci stiamo sfottendo un po su instagram io con gli interisti così ragazzi si scherza è giusto per mantenere alta l'attenzione e ti stai zii no lo so anche tu sei nervoso lo so lo so però dobbiamo stare un po tutti calmi no 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 così no ok quindi è una partita che per noi vuol dire capire a che punto siamo arrivati vuol dire capire se questo percorso di crescita sta andando per il verso giusto io non mi aspetto di vincere di andare lì a vincere non dobbiamo la faccia tosta perché come risultato finale un pareggio a san siro va benissimo ragazzi se lo prendiamo e ne parliamo così prima della partita però però se c'è però se ci pensate no se ci pensate niente ragazzi io non firmo per il pareggio in nessuna partita io vado per vincerle che sia superiore o inferiore la squadra io non firmo mai per il pareggio per la per la sconfitta o per la vittoria tranne se un pareggio non ci fa cedere a un turno successivo per dirti quelle cazzate lì è una partita che è complicata l'inter ha problemi numerici soprattutto a centrocampo anche noi abbiamo un po di infortunati che abbiamo recuperato molti ci sono infortunati nell'ultima partita mi viene da pensare claivert che forse al momento il giocatore che soprattutto in questa partita può essere fondamentale perché l'inter comunque non è una squadra schierata in difesa quindi ci sarebbe tornato utile come come profondità in termini di profondità così come penso sarà utile un derro perché secondo me giocherà un derro e zagnolo insieme insieme a pellegrini e gecko che ha avuto l'influenza giusto ieri o avanti eri ma penso che in quattro giorni la febbre vada via c'è non penso che che cazzo di febbre deve essere mentre all'inter gli si è rotto anche gagliardini simba devi vieni qua vieni qua non guardarmi così è nervoso anche lui ragazzi è comprensibile vieni qua che ti do vieni qua stai qua seduto e fai il bravo ok e quindi gli si è rotto anche gagliardini all'inter quindi se non dovesse recuperare come penso sensi barella ovviamente si è operato se non erro il centrocampo dell'inter dovrebbe essere cavallero vecino che nelle gerarchie a inizio campionato non dovevano mai fare un minuto a noi va bene a noi non va bene a noi va bene però queste cose a noi non ci portano benissimo perché solitamente quando gioca la riserva contro la roma ciumcium vecino già due campionati fa o lo scorso campionato no due campionati fa o lo scorso due gol in serie a uno all'andata con la roma uno al ritorno ne fece due o tre però i primi due li fece contro la roma andata e ritorno per farvi capire però però ragazzi io io sono sono fiducioso nel senso mi aspetto una bella partita perché storicamente lo sappiamo tutti gli inter roma i roma inter sono sempre delle belle partite ora sportivamente parlando bisogna essere onesti roma inter e l'inter roma sono sempre state delle delle belle partite io su instagram ho avviato un sondaggio e dei sondaggi in generale molto molto simpatici tra cui quello di dirmi da parte vostra qual è stato l'inter roma che vi è piaciuto di più vediamo un po vediamo un po i vostri vostri pareri aspettiamo domani la conferenza stampa pre partita di fonseca per vedere un attimino le situazioni di clayvert e gecko io penso che clayvert non ce la faccia e secondo me è un problema secondo me molti sottovalutano clayvert però la roma quando gioca con le difese schierate giocatori magari come clayvert e un der che sono devastanti in campo aperto possono avere dei limiti però per la tipologia di gioco di fonseca dove trova squadre che comunque non sono schierate la profondità che danno un der e clayvert è impressionante che sono sono qualità che non ti danno per ottimi chitarian perché sono giocatori chiamano avere la palla tra i piedi zagnola invece può fare entrambe le cose sia profondità che ottimo con le difese schierate quindi questo dovete capire ragazzi non sottovalutate clayvert perché molti ci sono fissati con sto fatto che clayvert è scarso clayvert è scarso è stato molto ingenuo domenica contro il verona perché sì quello scatto ci ha fatto capire la voglia che ha clayvert di essere protagonista però è stato uno scatto inutile perché ha cercato di recuperare il pallone ma non l'ha recuperato e comunque il giocatore del verona stava entrando in area di rigore ed apprezzare comunque il gesto ed apprezzare comunque il gesto perché si vede che la squadra ha voglia ha voglia di fare questo è quanto ragazzi mi raccomando mi raccomando c'è anche la promo di roma torino del 5 gennaio vi lascio il video in descrizione seguitemi su instagram ci sono tutti i dettagli domani facciamo un altro video perché ho bisogno di scaricare la tensione ma già la sto scaricando su instagram quindi andate lì che ci scarichiamo tutti insieme che ansia ciao 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 ciao